E salve a tutti ragazzi ed eccoci qui in un nuovo Luca video tutorial e in questo video come avrete letto dal titolo andremo a vedere come mettere la barra del Mac in tutti i nostri dispositivi Windows in una maniera veramente molto semplice ma efficace infatti sono sicuro che tutti voi riuscirete ad eseguire questo semplice passaggio che ci porterà ad ottenere dei risultati veramente ottimi. Bando le ciance direi quindi che possiamo subito incominciare per prima cosa ci basterà andare a cliccare sul link che vi lascerò qui sotto nella descrizione che ci porterà a questa pagina la quale ci dirà che questo file è disponibile soltanto per alcune versioni di Windows ma avendolo testato è disponibile con quasi tutti i sistemi Microsoft. Detto tutto ciò ci basterà andare a fare download rocket talk infatti una volta che avremo pigiato ci basterà andare a fare salva file e ci lo ritroveremo subito nella cartella. Andremo ad estrarlo e trasferirlo sul nostro desktop. Faremo tasto destro e qui esegui come amministratore e qui ci porterà l'installazione. Selezioniamo la nostra lingua clicchiamo sempre su avanti accettando i termini e le condizioni. Sempre avanti e qui creiamo un'icona dando quindi la spunta. Avanti sempre installa adesso e come potete vedere c'è partita subito l'installazione. Adesso possiamo andare a eliminare il file setup nel cestino. Ci basterà andare a fare un doppio clic per lanciare la nostra barra delle impostazioni e come potete vedere ce la troveremo subito. Naturalmente a voi sarà di un altro stile con altre icone come quella di file, musica e altre raccolte. A me sarà appunto comparsa questa icona proprio perché io ho già testato questo metodo ma veramente molto semplice per andarle ad eliminare. Ci basterà infatti prenderla e poi andarla a spostare sul nostro desktop e automaticamente spariranno tutte. Io infatti vi consiglio di eliminarle prima tutte e successivamente di andare a trasferirle quelle che ci serviranno. In questa maniera le trascineremo e le metteremo all'interno di questa barra seguendo appunto le nostre impostazioni. In questo caso io ne metterò soltanto 5. Voi potete mettere all'infinito ma naturalmente questo metodo non si limita soltanto a questo ma si limiterà infatti ad altri processi. Una volta infatti che andremo su questa barra e faremo tasto destro ci apparirà appunto queste impostazioni dal sud a nord. Noi infatti ci basterà andare a cliccare su impostazioni barra e qui ci apparirà questa schermata. Andando su generale potremo impostare la nostra lingua, in questo caso italiano e successivamente mettiamo la spunta su avvio del computer. Andremo poi in basso sul generale e come potete vedere ci darà qualche impostazioni che in questo video non ci serviranno molto. Nella posizione io lo metterò appunto sul basso e poi potremo andare anche a cambiare l'altezza. Io infatti mi trovo veramente bene su questa altezza all'interno del nostro computer. Veramente fantastico. Andando su stile potremo andare a ridimensionare i caratteri come più ci piacciono. Io vi consiglio di andarli a mettere in base al vostro sfondo. Come potete vedere io metterò appunto una barra impostazioni che si abbini con il mio sfondo. Successivamente andremo a vedere altre impostazioni che però non ci servono. Per questo motivo ci basterà andare a fare ok e come potete vedere andrà a salvare tutti i nostri file. Voi di sicuro vi chiederete come mai ho questo sfondo. Se non l'avete ancora visto vi consiglio infatti di andare a vederlo il video vi lascerò il link qui sotto nella descrizione. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Naturalmente iscrivetevi al canale e commentate qui sotto hashtag bel video per essere salutato nel mio prossimo Luca video tutorial. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e vi auguro quindi una buona giornata e una buona continuazione su youtube. Ciao a tutti alla prossima